Il patto per le sa-gift sono 50 sub se fa gol Correa o 200 sub se fa gol Correa di sinistro su assist di Dumfries di sinistro. Il cammino sarebbe già clippato. No, 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 no! No! Il Benfica non c'è più in campo e l'Inter ne approfitta con la qualità anche di Correa, che è un giocatore discusso. Aria Regia sicuramente meno, però poi anche questi... Stava ascoltando la live in panchina. Spendiamo non solo soldi per giftare le sub, ma le tasse che pagano sono le stesse sub, da me medesimo giftate. Ma poi con un gol che neanche se riprova mille volte ci riesce. No, parola, dai. Ma perché? Ma poi c'è veramente... Se ne fa un altro basta, finito. Non c'è niente per un 2. La cineteca, vabbè, era forse un po' troppo, però ovviamente non un brutto gol. Ma anche questo vada a togliere dalla mia memoria tutte le prestazioni macabre che ha avuto, però...